Si pentirà di averti lasciato e la tua famiglia penserà che siamo innamorati Ingelosire l'ex fidanzato, ma come? Mia sorella si sposa e il testimone dello sposo è il mio ex Semplice Contali, sono 6.000 precise Con un accompagnatore perfetto Troppo perfetto Dove l'hai trovato? Pagine gialle Per il ciclo batti vecchi d'amore The Wedding Date, giovedì in prima serata, sulla 5